In questa puntata di AgriSapori arriva dalla Liguria una proposta per vivere l'agriturismo e la natura in modo molto originale. Basilico DOP, un ingrediente essenziale per il vero pesto alla genovese. Il fagiolo cuneo IGP, un prodotto unico dato dalle uniche condizioni pedoclimatiche della granda. Il nostro invitato speciale ha poi raggiunto il Molise per presentarci vini e piatti di mare e di terra. Tra verde e denogastronomia senza rischiare affollamenti, per tanti la vacanza cult dell'estate 2020 è quella in agriturismo, dove è possibile trascorrere le proprie giornate in sicurezza alla scoperta dell'entroterra Ligure e delle sue peculiarità culinarie, ma non solo. A spingere verso il turismo rurale di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne sono infatti anche le nuove proposte avanzate dalle strutture ricettive, che attirano per la semplicità e per la possibilità di relax che offrono. L'agriturismo che ci apprestiamo a visitare è sito in una radura tra le foreste calizzanesi, al confine tra Liguria e Piemonte. Un vecchio cascinale restaurato nel 2006, rispettando l'ambiente e le tradizioni architettoniche del mondo rurale. Noi siamo un agriturismo appunto a Calizzano, quindi siamo già in montagna, in Liguria, ma già sull'Appennino, quindi siamo contornati dal verde, dalle foreste. Anche noi come attività siamo, ad esempio, una delle nostre attività produttive principali sono le castagne, le patate, quindi tutto un ambiente, sì Ligure, ma che si pensa già un po' alla montagna e ai monti. La struttura ospita un ristorante pluripremiato, camere da letto per gli ospiti ed è una meta prediletta per gli amanti dell'outdoor in tutte le sue forme. Nel Dio nostro offriamo molti servizi, da servizio di ristorazione alle camere, una serie anche di attività un po' sportive, un po' anche di relax, cioè dalle escursioni a piedi, mountain bike, a cavallo, c'è sia escursioni impegnative dalle 3 o 4 o 5 ore a escursioni brevi, da un'ora o due. Poi appunto tutti gli animali, quindi soprattutto per famiglie e bambini, visitare tutta l'azienda agricola, dai cavalli alle caprette, tutto questo genere di animali. E poi appunto tutte le attività del maneggio, le passeggiate a cavallo, le lezioni, tutto questo genere di attività. Abbiamo anche il campo di tiro con l'arco, quindi un po' tutta attività outdoor, ma che coprono un po' tutta la stagione estiva, ecco, dalla primavera fino all'autunno. Ispirata dai giacigli temporanei dei pastori delle Alpi Liguri, un'innovativa proposta che vuole essere simbolo di un nuovo modo di fruire la natura, più leggero e consapevole, grazie alla potenza evocativa di un'esperienza unica come una tenda, ma con un comodo materasso, il tetto apribile a piacimento e sopra cielo infinito. Le Starbucks è un'idea non nostra, ma che comunque è l'ideatore di Calizzano, quindi un po' sempre del nostro territorio. L'abbiamo installata a partire dall'estate scorsa ed è questa piccola casetta, simile un po' a una tenda per le dimensioni e per ciò che offre, all'interno c'è un letto matrimoniale, con la particolarità che ha il tetto apribile e quindi durante la sera si riesce a vedere le stelle, ecco, in autonomia, uno apre e chiude il tetto a piacere. Come si sono adattate le aziende durante il lockdown? Diciamo l'inizio, le prime settimane sono state un po' problematiche, un po' soprattutto per i dubbi che avevamo noi, ma che aveva anche clienti, che voleva comunque tornare un po' alla normalità. Poi pian piano abbiamo visto che comunque noi ci siamo adattati, tenendo tutte le misure necessarie. Anche i clienti abbiamo visto che sono quasi totalità attivi e sono attenti anche all'uso della mascherina e questo genere di misure. Abbiamo visto che il ritorno c'è, la gente apprezza soprattutto questo genere di vacanza, di turismo un po' più nostrano, un po' più in campagna, un po' più semplice. Abbiamo visto che a dispetto dell'anno scorso, forse è stato per tutti questi mesi di quarantena la richiesta ha aumentato con fronte allo stesso periodo dell'estate scorsa. Abbiamo lavorato di più, sia come camere, quindi turisti ormai quasi totalmente italiani, stranieri, quasi nessuno e soprattutto anche come ristorante, perché non abbiamo la possibilità di ospitarli fuori, all'aperto e quindi questo è stato forse il colpo vincente, ecco, del nostro servizio. Vedo soprattutto dalle città che ci attorniano, cioè da Savona, Genova, anche soltanto Albenga. Quando è stato proprio la fine della quarantena c'è stato proprio il boom di richieste, anche e soprattutto poi noi siamo già un po' a confine col Piemonte, quindi già dal basso Piemonte che ha sempre avuto clienti di queste zone, però quest'anno è stato davvero più degli altri anni, ecco. L'azienda agricola specializzata nei piccoli frutti, patate e ortaggi, colture alla base di una cucina tradizionale a chilometri zero. Principalmente le nostre attività sono agricole. Abbiamo le castagne che erano presidio slow food, le patate, poi i piccoli frutti, mirtilli, lamponi, fragole, tutti i prodotti che vendiamo sia freschi sia trasformati all'interno dell'azienda, o all'interno dell'azienda o comunque del comune di Calizzano e come nei vicini, ecco. Li trovate sia in vasetti come marmellate, sciroppati, anche qualche prodotto salato. Facciamo parte del circuito di Campania Amica per la vendita diretta. Abbiamo seguito fin da subito delle idee di Campania Amica su questo genere di rapporto diretto col cliente e della domanda. Senza intermediare, vediamo che è una cosa molto apprezzata dal consumatore finale, ecco, che ritorna proprio appositamente da noi per acquistare i nostri prodotti, ecco, non soltanto il cliente che soggiorna. Ingrediente determinante nella ricetta del pesto genovese, il basilico. È la cultura tipica della Liguria, simbolo di un'agricoltura sospesa sul mare e di una cucina genuina che racchiude tutto il profumo e la storia di questa terra. Il basilico prodotto in Liguria si distingue dalle altre cultivar per le foglie più piccole, dalla forma ovale convessa e il suo colore verde tenue. Le aziende produttrici di basilico genovese D.O.P. sono ubicate sul versante amare della Liguria e noi per meglio descrivervi questo meraviglioso prodotto siamo andati a Celle Ligure, in una delle più grandi aziende produttrici di questa eccellenza. Il basilico genovese D.O.P. viene coltivato nel versante collinare verso il mare. Questa è una caratteristica fondamentale perché permette al basilico di avere oli essenziali di qualità superiore. Poi le foglie del basilico sono piccoline, come potete vedere, hanno un colore chiaro, verde chiaro e non hanno il gusto di menta. Un'altra particolarità del basilico genovese D.O.P. è che il basilico viene coltivato all'interno della terra nel terreno Ligure. Questa è una caratteristica fondamentale per la denominazione di origine protetta. Coltivando il basilico nel terreno Ligure dà alla pianta delle caratteristiche migliori e uniche. Il profumo del basilico è unico, non si ha il sapore di menta ed è molto dolce. Il basilico genovese D.O.P. ci sono due modi di raccolta, o come potete vedere all'interno delle bouquet tipico Ligure, in cui la raccolta avviene raccogliendo a mano singolarmente ogni piccola piantina. Dopodiché, quando si ha una giusta grandezza, viene fasciato all'interno di una carta e all'interno della carta si trova della paglietta, che permette al basilico di durare un po' più a lungo. La seconda modalità di raccolta del basilico genovese D.O.P. è a campo aperto e vengono tagliate le foglie, mentre le radici rimangono per una seconda ricrescita. Quali sono i canali di vendita di questo prodotto? Come si sono adattate le aziende durante il mese di lockdown? Il nostro prodotto viene venduto principalmente sui mercati all'ingrosso, sia quello di Genova Bolzaneto e quello a Savona. Poi facciamo anche una vendita diretta sia al consumatore, sia al ristorante e ad alberghi. Il nostro prodotto è richiesto molto perché è un prodotto unico, che si sta quasi perdendo. La raccolta e la creazione di questo mazzetto di basilico richiede molto tempo ed è molto costoso e è sempre difficile riuscire a realizzare un prodotto di alta qualità. È costoso perché ci vuole molta manodopera a realizzare molti mazzetti e poi è soggetto molto al clima. Ci sono periodi in cui nasce con più facilità, ad esempio d'estate, cresce di più e più facilmente a gusti migliori, mentre l'inverno cresce molto più lentamente e può andare a influire sulla qualità del prodotto. Nel periodo di lockdown abbiamo subito grosse perdite perché avevamo raccolto, avevamo seminato tutte le serre pronti per la stagione primaverile, soprattutto ci eravamo preparati per Pasqua, ma abbiamo dovuto buttare molta produzione. La nostra forza un po' salvezza durante questo periodo di lockdown è stata con le consegne a domicilio e siamo riusciti un po' a vendere un po' di prodotto, ma dato che in maggior parte tutti i ristoranti e gli alberghi erano chiusi, le perdite economiche sono state molto rilevanti. Rinomato per la sua qualità e particolarmente indicato per la preparazione del classico pesto, il basilico genovese risulta il condimento tipico della cucina ligure, adatto a confezionare uno svariato numero di piatti asciutti, tartine e focaccette. Per preparare il pesto al mortaio servono sette ingredienti, aglio, basilico genovese DOP, pinoli, parmigiano reggiano DOP, pecorino sardo, sale grosso e olio d'oliva extravergine ligure. La preparazione si incomincia con pinoli, aglio e si incomincia a pestare. Si incomincia a schiacciare prima di tutto i pinoli e l'aglio perché sono gli ingredienti un po' più duri. Questo se si fanno da soli si riesce meglio a schiacciarli. All'inizio si schiacciano e a un certo punto si incomincia a rotteare. Dopo aver pestato l'aglio e i pinoli lo si mette da parte che poi verrà utilizzato dopo. Adesso prendiamo il basilico. Vengono prese le singole foglie staccate una a una. Adesso le foglie di basilico le pestiamo così in modo da ridurre il volume e schiacciarle e aggiungiamo anche un po' di sale. Dopo che abbiamo schiacciato un po' le foglie in questo modo qua incominciamo a rotteare in modo da schiacciarle di più. Il basilico genovese DOP che viene coltivato nel versante del culinare esposto verso il mare permette al basilico di addolcire il gusto e non avere il gusto di vento. Adesso il basilico comincia ad essere schiacciato e dopo che viene rotteato si incomincia a vedere gli oli essenziali del basilico fuori uscire. Dopo aver pestato le foglie del basilico prendiamo i pinoli e l'aglio che abbiamo pestato prima. A questo punto aggiungiamo gli ultimi tre ingredienti che sono il parmigiano reggiano, il pecorino sardo, adesso prendiamo il nostro olio d'oliva extravergine e facciamo l'ultima pestata. Adesso siamo arrivati alla fine e il pesto è pronto. La particolarità del fagiolo cuneo è di essere una varietà rampicante per cui richiede nelle coltivazioni molto lavoro manuale. Dopo la preparazione del terreno viene effettuata la semina nel periodo tra aprile e luglio. Per il sostegno delle piante vengono utilizzate delle canne legate insieme a quattro nella parte apicale in modo da formare una bina somigliante ad una tenna indiana. Un filo orizzontale collega ciascuna di queste tende in modo da rendere più rigidi e resistenti i tutori nei confronti delle intemperie e del progressivo peso delle piante rampicanti. Nel corso dei mesi estivi i fagioli devono essere irrigati a seconda delle condizioni climatiche e del periodo delle piante. Sono necessarie inoltre diverse lavorazioni del terreno tra le bine al fine di aumentarne la permeabilità, la fertilità e la difesa dagli infestanti. Questo è un borlotto rampicante che viene coltivato nella zona di Cuneo e nella provincia. In altre zone tribula molto a essere coltivato per il fatto del troppo calore e degli sbalzi termici che non ci sono durante la notte. Si inizia a seminare nei primi giorni di maggio e si continua fino verso la fine maggio, inizio giugno. È un fagiolo rampicante in cui ci sono molto mano d'opera perché si fa tutto praticamente a mano. Ci sono le macchine che mettono giù le canne, però ci vogliono gli operatori a distribuire le canne. È un grandissimo lavoro. Questo fagiolo rampicante viene in pratica dopo 90-100 giorni dalla semina tagliato e messo a seccare sulle canne. Cioè viene alzato leggermente da sotto in cui rimane lì 10-15 giorni a seccare e poi si trebbia con le metitrebbie normali che ci sono in zona adesso. Le caratteristiche del nostro fagiolo è che è un fagiolo tenerissimo, ha la pelle fine e quando uno va a mangiarlo non sente la pelle in bocca. Cioè è come mangiare, io direi, quasi un biscotto. Siamo diversi soci in cui conferiamo il fagiolo, dove viene lavorato, confezionato e mandato ai grossisti. Abbiamo diversi grossisti in zona che usano il nostro fagiolo e lo mettono sul mercato, poi nei supermercati, nei negozi vari. Il fagiolo con l'IGP è un'identificazione geografica protetta in cui deve essere coltivato nei comuni che sono nel circuito dell'IGP. Questo fagiolo deve avere le caratteristiche delle proteine e la grandezza dei semi. L'intera produzione del fagiolo cuneo IGP è regolata da uno specifico disciplinare, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole. La verifica del rispetto dei requisiti disciplinari è poi effettuata da un'autorità competente o da un organismo di controllo autorizzato. Ci troviamo a Caraglio, presso uno dei nostri campi coltivati a fagiolo fresco. Nello specifico si tratta di varietà bingo. Ci siamo iscritti al consorzio del fagiolo cuneo IGP e abbiamo richiesto ed ottenuto la certificazione per il fagiolo nella versione fresca da sgrano. La semina del fagiolo fresco comincia verso la fine del mese di aprile per protrarsi fino a metà luglio. Viene fatta scaglionata proprio per poter permettere una raccolta frazionata durante tutta la stagione. Le quantità che si possono produrre in annate normali arrivano anche a sfiorare i 100 quintali ad ettaro. Le caratteristiche principali che differenziano il nostro fagiolo da tutti gli altri fagioli presenti sul mercato sono innanzitutto il forte colore rosso e una notevole dimensione del baccello che si ripercuote in una ottima calibratura dei semi. Il fagiolo cuneo ha trovato in queste zone pedemontane il suo abito ideale perché abbiamo delle stati comunque non eccessivamente calde, abbiamo acqua a sufficienza per una buona irrigazione e soprattutto abbiamo una notevole differenza termica fra il giorno e la notte. Questa differenza termica è l'elemento principale per favorire la sintetizzazione di un colore rosso intenso. La raccolta delle granelle secche avviene quando le piante sono state recise e lasciate adeguatamente appassire. La trebbiatura restituisce un prodotto che deve ancora essere lavorato. Occorre infatti procedere alla pulitura, calibratura e cernita manuale prima di avere il fagiolo cuneo pronto per il confezionamento. Per valorizzare il nostro prodotto abbiamo progettato un tipo di confezione innovativa, si tratta di una cassetta di dimensioni ridotte che è in grado di contenere circa due chili di fagioli che sono mediamente quanto una famiglia riesce a consumare. Il fagiolo rosso di cuneo viene commercializzato in tutta Italia attraverso dei commercianti di zona che si sono specializzati in questo tipo di prodotto e riforniscono i grandi mercati generali sia del nord che del centro che del sud e il prodotto di qualità superiore invece viene mandato soprattutto in Francia e soprattutto in Svizzera. Il fagiolo cuneo ha una forte reputazione sul territorio nazionale sia a livello commerciale che a livello di consumi in quanto fortemente stimato ed apprezzato soprattutto per le sue caratteristiche peculiari sia sotto l'aspetto organolettico sia a livello socio-economico nonché storico-culturale. Esiste una tradizionalità che si tramanda da padre in figlio nel coltivare il fagiolo rampicante, una cultura che sicuramente necessita di molta mano d'opera e che nell'areale di cuneo è esclusivamente di tipo familiare. Ne sono ancora un esempio oggi i raduni famiglia dove i componenti, la famiglia stessa, i parenti e gli amici si ritrovano per aiutare il conduttore aziendale a sfilare le piante di fagiolo secco prima della trebbiatura, a seminare e a piantare le canne. Anche su questo aspetto c'è un forte legame tra il produttore e questo tipo di tecnica culturale in quanto esiste solo ed esclusivamente nell'areale cuneese la tradizione di legare quattro canne insieme nella parte apicale a formare una specie di tenda da indiano. Dalle analisi effettuate sul fagiolo cuneo e su altre tipologie di fagioli italiani ed esteri risulta che la percentuale di proteine di ferro è nettamente superiore sul fagiolo cuneo. Ciò significa che la vocazionalità pedoclimatica e strategica e l'areale di cuneo dimostrano di avere tutte le caratteristiche idonee per originare un prodotto diverso dagli altri. Pertanto il fagiolo cuneo ricco di proteine e ferro ha quasi le stesse proprietà nutrizionali degli alimenti a base di carne. Per l'ultimo viaggio di questa puntata di Agrisapori raggiungiamo il Molise dove il nostro invitato speciale ci sta attendendo per presentarci vini e piatti di terra e di mare. Siamo in Molise e le immagini che state osservando sono relative alla costa e più precisamente alla città di Termoli. Qui la cucina è decisamente varia tra piatti di mare e di terra. Pochi chilometri più a nord, verso il confine con l'Abruzzo per intenderci, dalla cima della contrada Montebello nel comune di Monte Nero di Bisaccia il territorio è dolce e armonioso. Abbiamo raggiunto questa zona d'Italia per degustare un vino autoctono molisano, il Tintilia. È un vino decisamente interessante, dal colore rosso rubino, a volte con riflessi violacei, dal profumo intenso e gradevole con un sapore armonico e morbido. Per conoscerlo meglio abbiamo incontrato uno dei produttori più autorevoli. Tintilia è il nostro vitigno autoctono che viene coltivato esclusivamente in Molise, un vitigno indigeno. La sua epoca di questo vitigno risale a tempi antichi, parliamo del 700-800 ai tempi dei Borboni, prime barbatelle piantate in Molise, ma purtroppo probabilmente i nostri nonni non riuscivano a fare un gran ricavato su questo vitigno. Perciò col tempo hanno in qualche maniera deciso di impiantare vitigni con una redditività più elevata. Invece oggi le nuove leve, le nuove aziende, i nuovi produttori che in qualche maniera ha grande ricchezza sui vitigni Tintilia e sui vitigni autoctoni in generale in Italia, hanno iniziato fortemente a puntarci sopra, a lavorarci, a studiare, a capire le loro evoluzioni e perciò portare avanti dei progetti sui vitigni autoctoni. Il Tintilia viene coltivato in alta collina, siamo a 400 metri sul livello del mare, è un vitigno che si presta a un clima favorevole in alta collina, perciò puntare sull'alta collina questo vitigno è proprio la sua ubicazione migliore per portare un gran frutto direttamente poi in cantina per poi trasformarlo, vinificarlo e affinarlo direttamente in barricca. E in cucina? Con quale piatto potremmo apprezzarlo? Con il vino Tintilia l'abbinamento ideale rispettando quello che sono le nostre terre sono sicuramente i cavatelli con la ventricina, la ventricina che è un salume nostro tipico, dici ventricina, dici Montenero di Bisaccia. Io li preparo così, allora facciamo un piccolo soffritto di aglio con la ventricina che è già ricca di tutti i suoi aromi, rispettando il momento visto che è un periodo estivo e caldo usiamo del pomodorino fresco, andiamo ad allungarlo con dell'olio di un monocultival di leccino e una passata di pomodoro, 10 minuti di soffritto e di cottura e arriviamo ai cavatelli. I cavatelli hanno un impasto di solo farina acqua perché rispettiamo un po' quello che è anche la cucina povera del nostro territorio e poi andiamo ad amalgamare il tutto. Tintilia e non solo, un altro vino importante per questa terra è la Falanghina, un vino elegante che si presta ad invecchiare nel tempo, dal colore bianco paglierino con profumo delicato e il sapore armonico. Ideale con il pesce ma anche con le ricette di terra a mio modesto parere. Molise, anche qui terra di grande vitigno a bacca bianca, Falanghina, siamo sempre nel comune di Montenegro di Bisaccia ma qui parliamo di bassa collina, siamo grossomodo intorno ai 100 metri sull'altezza del mare, siamo su terreni abbastanza sabbiosi dove la sua dimora è realmente il suo habitat ideale di questo vitigno, Falanghina che si sta in qualche maniera affermando sempre di più da questo territorio confinante alla nostra campagna. Falanghina abbiamo due tipologie di prodotti in azienda, una da vigneti giovani dove facciamo dell'affinamento direttamente tutta in acciaio lasciandola sui lieviti madre, invece ne abbiamo una da selezione dove facciamo fermentazione e poi affiniamo direttamente in barrique per un periodo di circa sei mesi. Un altro piatto nostro tipico, sempre ideale da abbinare anche al vino, è sicuramente l'agnello porchettato rispettando anche un po' le tradizioni pastorizie del nostro territorio. Allora lì andiamo a fare un soffritto con l'interiore dell'agnello, in questo caso del fegatino, i suoi odori, delle mandorle, uova e formaggio. Facciamo l'involtura, farciamo e andiamo a cottura in forno. Una parentesi molisana con i vini e i piatti per il pubblico di Agri Sapori. Con la voglia di vacanza e l'acquolina in bocca nel vedere le belle immagini che la regia anche oggi ci ha proposto, noi vi salutiamo e vi ringraziamo di essere stati ancora con Agri Sapori, il bello e il buono dell'Italia.